salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale oggi facciamo un bel unboxing delle figurine di spider-man come vi dissi nello scorso video ho comprato due album uno l'ho tenuto sigillato e uno invece sto provando a completarlo qui ragazzi parliamo di un grande fumetto ovvero l'ultima caccia di graven sono veramente belle ragazzi in ogni bustina ci sono quattro figurine più una card ovviamente da collezione queste card sono veramente belle mi piacerebbe finire anche queste card da collezione ma non è facile secondo pacchettino un bel doppione al secondo pacchetto non male questa completa credo sia veramente bella qui qui abbiamo spider-man contro i sinistri sei anche se qui ne abbiamo solamente tre qui abbiamo punisher e qui invece abbiamo una card anche questa doppione terzo ed ultimo pacchetto vediamo di trovare qualcosa di buono questo è uno dei costumi più belli niente da dire bellissima anche questa doppione anche questa e vediamo la card fortunatamente questa non ce l'ho e va dritta in collezione bene ragazzi per oggi è davvero tutto mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi al canale cliccate sulla campanellina lasciate tanti commenti e soprattutto condividete il video con i vostri amici dal vostro valerio è davvero tutto io vi abbraccio e ci vediamo in un prossimo video